Il post-match di Virtus Basket Molfetta Corato, siamo in compagnia di Jackie Barnaba, una buona partita, una buona Virtus, come dicevamo era importante iniziare bene, iniziare con una vittoria. Ti ringrazio, innanzitutto ringrazio tutto il pubblico che oggi è stato incredibile, noi oggi avevamo quella tensione positiva di voler fare bene davanti a questo pubblico perché con la sosta estiva vuoi solo arrivare che dai tutto. Oggi abbiamo dato tutto, davvero tutti i ragazzi hanno dato tutto, ma non dico solo a livello tecnico e tattico, ma proprio a livello di energia e penso che quella è la cosa più importante che dobbiamo fare in questo momento, creare la nostra identità e portare tanta energia, soprattutto davanti a questo pubblico che oggi è stato incredibile, davvero. Lati positivi, qualche defiance probabilmente nel terzo e quarto quarto, in che cosa si può migliorare? Sì, allora sicuramente noi dobbiamo colmare dei gap difensivi che arrivano da momenti in cui noi siamo stanchi perché c'è stata oggi tanta intensità, però dobbiamo lavorare per quello perché dobbiamo farci trovare sempre pronti e è importante anche sapere dove andare a migliorare. Però io penso che a livello di attitudine oggi era molto importante dimostrare dall'inizio, dalla prima di campionato, questa voglia di vincere. Sappiamo tutti che il gruppo fa tanto, a che punto siamo da questo punto di vista? Allora, quest'anno è un gruppo particolare perché ci sono tanti stranieri, quindi col capitano, con tutti gli altri italiani, stiamo cercando di amalgamare tutto e di aiutarli a integrarsi al meglio possibile. Sono tutti ragazzi che vogliono fare bene, che ci tengono a fare bene per il loro percorso, per il nostro percorso, quindi siamo tutti davvero felici perché c'è voglia e la cosa più bella è questa. Grazie a tutti